Sportivi, griffati, di design o di ultima tendenza, coloratissimi o in tinta con l'abbigliamento o per ogni occasione. Stiamo parlando di occhiali da sole, i protagonisti assoluti dell'estate per quanto riguarda gli accessori da avere assolutamente nel cassetto o nella valigia se siete in partenza per le tanto sudate ferie. Noi innanzitutto cerchiamo di capire l'utilizzo dell'occhiale, soprattutto. Poi la problematica visiva per cercare di esaltare la protezione, perché è importante e fondamentale, è la retina, cioè proteggere l'occhio. Non mancano poi, come in ogni settore modaiolo, anche le novità dell'anno, come lo shaker per occhiali e le lenti flashate. Questa qui è una delle novità della lente Transition. Praticamente la lente non è più chiara, ma è leggermente flashata, per cui è una lente quasi da aperitivo. Andando al sole diventa completamente a specchio. Oltre alle caratteristiche delle lenti che sono molto importanti, la novità dell'estate è come pulire le lenti. E allora noi siamo esclusivisti dello shaker dell'occhiale. Ed ecco, il nostro lino balestra con una visione più nitida del mondo. Bene, non resta quindi che acquistare l'occhiale giusto per voi, ma se siete sbadati e vi cascano in continuazione, niente paura, esiste una lente che fa per voi indistruttibile.